Durante il periodo delle festività natalizie nella chiesetta di San Giuseppe, di proprietà dell'Università dei Falegnami, sarà possibile ammirare un'opera di pura arte preseppiale napoletana. A realizzarla, per conto della Fondazione Mazzatinti, è stato un giovane artista partenopeo, Guglielmo Muoio, che ha riprodotto una natività di autore anonimo del Seicento presente nel piccolo edificio di culto. Un'iniziativa che la Fondazione ha messo in campo in collaborazione con il Club Unesco, nell'ambito della promozione interculturale del presepe come bene immateriale dell'umanità. E nel periodo delle festività natalizie, grazie alla collaborazione di alcuni studenti che hanno dato la loro disponibilità, la chiesetta resterà aperta in alcuni momenti della giornata a partire dalla mattinata della vigilia. Il committente è la Fondazione Giuseppe Mazzatinti di Gubbio. Il Club Unesco ha patrocinato. Devo dire che questa cosa è nata sulla base di un'esperienza, diciamo così, come Fondazione qualche anno fa abbiamo fatto, coerenti con il nostro mandato istituzionale, la nostra mission, come si dice oggi. Noi facemmo un incontro dedicato a un libro di Richard Sennett, un sociologo americano che ha scritto un importante testo sull'uomo artigiano. Diceva che il futuro dell'umanità, non solo dell'Italia, possiamo aggiungere noi, il futuro della cultura in senso globale deve recuperare un po' il saper fare dell'arte artigianale. E questo giovane a me che ho incontrato casualmente mi è sembrato che incarnasse questo messaggio e per coerenza culturale, per onestà intellettuale mi sono detto e ho detto ai miei collaboratori che hanno condiviso con me questa iniziativa se non era il caso appunto di promuovere appunto l'attività di un giovane in questo campo, in questo settore. Questo giovane lavora a Napoli, si è dedicato a questo lavoro facendo salve le tradizioni familiari. Mi sembrava un modo per dare un riconoscimento a lui e per coniugare anche insieme, quasi fosse una contaminazione diciamo così, l'arte presepiale napoletana settecentesca con anche l'arte eugubina, la ceramica e quant'altro. Sarà un discorso da riprendere questo perché ognuno localmente tutela le proprie origini, il proprio status culturale, la propria identità, però l'identità non può essere mai chiusa e deve essere aperta ad altre identità. E questo è un po' il nostro disegno, questo lavoro, quest'opera si iscrive in questo percorso, diciamo così. Fra l'altro se posso aggiungere l'Università dei Falegnami vede aperta questa chiesetta di cui è proprietario, come lei giustamente ricordava, in alcuni giorni del periodo natalizio avremo degli studenti che ci danno una mano in questo senso, quindi cerchiamo di creare anche qui quelle sinergie, quelle disponibilità utili a fare un servizio anche alla città di Gubbio.